signori taxi driver osannatissimo firma famosissimo con deniro e la giovanissima jodie foster è bello ma non è un super fino è un capolavoro da 9 è un 8.4 bello c'è un po di tutto dentro il deniro quasi più bravo del padrino ma capolavoro anche no bello consigliato iscrivetevi al canale mettete mi piace e un saluto a tutti adesso chissà gli insulti che mi arrivano